A grande velocità sulla Ragusa Catania con nel bagagliaio dell'auto 71 kg di marijuana e 5 kg di hashish. A tradirlo proprio l'alta velocità non passata inosservata ad una volante della polizia che stava effettuando un servizio di controllo notturno proprio sulla 514. Si sarebbe preso una multa per eccesso di velocità e anche qualche punto in meno sulla patente ma il forte odore di marijuana lo ha inchiodato a reati ben peggiori. Lui Omar Lillo, vittoriese di 36 anni, vista la paletta dell'Alt si è subito fermato al posto di blocco per consegnare i documenti senza però preoccuparsi dell'odore di marijuana che fuoriusciva dalla vettura. Odore certamente non passato inosservato agli agenti che prima di ogni altra cosa hanno avvisato i colleghi della squadra mobile per poi intervenire con un controllo accurato su tutta l'autovettura. La droga in totale, oltre 75 kg, era bene visibile non appena ha aperto il cofano e per questo il vittoriese è stato immediatamente ammanettato e accompagnato negli uffici della squadra mobile. La sua condotta spregiudicata non è quindi passata inosservata. Era impossibile non notare che il baule fosse pieno di droga. Questo corriere, a differenza degli altri già arrestati nei mesi scorsi, non ha fatto nulla per nascondere la droga trasportata come fossero delle valigie. L'uomo adesso si trova in carcere a disposizione della procura della Repubblica di Ragusa. La squadra mobile negli ultimi mesi ha inferto durissimi colpi alle organizzazioni criminali dedicate al traffico di sostanze stupefacenti, sottraendo loro ingenti guadagni dovuti alla costante richiesta di droga da parte dei sempre più giovani ragazzi. In questo caso la droga sequestrata, tra l'altro di ottima qualità, avrebbe fruttato oltre mezzo milione di euro. Grazie a tutti.